Non ce l'ha fatta Paolo Pradella, il 28enne di Semogo, in Val di Dentro, rimasto gravemente ferito nel ribaltamento di un muletto del quale era la guida ieri mattina attorno alle 8. Nell'incidente, del quale avevamo dato notizia nell'edizione di ieri, il mezzo di lavoro si era violentemente abbattuto su un fianco durante una manovra su un terreno posto in discesa, causando al giovane imprenditore lesioni apparse sin da subito molto gravi. Prontamente soccorso dai vigili del fuoco del vicino distaccamento di Val di Sotto, Pradella era stato trasportato a bordo di un elicottero del 118 presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice rosso. Sul luogo dell'accaduto, anche i carabinieri della compagnia di Tirano, assieme ai tecnici dell'ATS, specializzati in casi di infortuni sui luoghi di lavoro per i rilievi atti a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Nella serata, l'aggravarsi delle condizioni del giovane imprenditore e il conseguente decesso.